bentornati ragazzi per una nuova serie sul canale questa volta come potete vedere sarà god of war ascension la so che non è un souls però è una serie che ho voluto fare da molto tempo in più alla fine possiamo dire che in ogni caso una challenge run perché ho intenzione di giocarlo alla difficoltà massima che titano infatti mi vedrete morire tanto tanto faccio questo piccolo post commentario prima di lasciarvi al live commentary per parlarvi appunto di che serie ci saranno sul canale oltre a go for ascension ci sarà un'altra serie in alternativa chiamata hotel dusk room 215 che è un gioco per nintendo ds non penso lo conosciate e stile punto e clicca molto cioè che si basa molto sulla storia non è storia misterio eccetera eccetera quando invece ho voluto fare appunto di una scena per diciamo mixare per bene i tutti i gusti di coloro che possono essere sul canale che mi seguono per quanto riguarda il live commentary che ci sarà dopo queste cutscene vi preannuncio che in questo e nel prossimo video il mio audio sarà molto basso perché non avevo mai utilizzato in precedenza alla funzione di registrazione dell'audio direttamente dal programma con cui registro anche il video per questo è venuto un po' così vorrei sapere cosa ne pensate sia di questa che della prossima serie fatemelo presentare nei commenti lo apprezzerei molto grazie ancora a fumo per aver portato nuovi iscritti nuove persone e grazie ovviamente anche a voi come siete iscritti detto questo vi lascio questa cutscene e poi al mio tra virgolette live commentary grazie a tutti kratos il grande generale di sparta fu infine sconfitto portato alla follia torturato e reso incapace di discernere la realtà il guerriero si ritrovò intrappolato come una mosca nella rete delle furie mai 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 più vi preannuncio che sono parecchio arrugginito quindi se mi vedrete morire di morti stupide la mia scusa è questa ecco siamo belli insalubinati dal solito salve grazie c'è la nostra amichetta la nostra compagna di giochi non che io sia un fan dei disermi schifosi a momenti iniziali in play per chi non lo sapesse ma non è il più avvicinato d'altra parte fanno bruscamente introtti da mia sorella aletto non ha mai appreso le buone maniere non temere sono molto brava a insegnare Sì, c'ho tipo reggisola... L'altro dobbiamo... ops... è già un play, eh? Beh, il vero fuori è pieno di quick time event... però... cioè, a me piace così come... La tua rabbia resta! Eh, ci siamo liberati... E' così... Con queste due case... inizia la nostra avventura... il godo fuori ascenso... Mi raccomando a rompere tutte le casse... cioè, casse, basi... roba, insomma... più struttibile perché... a queste schiere rosche serviranno poi più avanti per il potenziamento delle armi... Oltretutto, in un caso, farò vedere dove trovare... ovviamente gli Screamy... che a fare gli occhi di Gorgone... che a fare le sue di Polizia... Cioè, per i colmi di Minotau... proprio quello che vuole essere... adesso... adesso... mi raccomando male... ci sto... a Peso Vinter... non mi ricordo bene te... i collezionati dei tuoi... che aumentano... vita... com normatili hai detto... prova... non riuscirai a mettermi... ovvio... ho fatto in questo... ah, in questo titolo... al contrario degli altri... della serie... l'ha presa, quello che ho fatto, fino adesso, praticamente... si fa con R1 e non con cerchio... questo è stato tipo... ora mi ha tipo spiazzato all'inizio sono le note dello scrivo del centimane che incontreremo più avanti ogni notte fanno visita alla mia cella compiendo atti inerrabili i parassiti di megera non me non mi libero niente di meglio che è un parassit che ci infila nel cervello metà un uomo che è intetto nel sogno di tutti voi forse fin da cucinino non avete sognato ole primi nemici di terzo letta esseri ovviamente con la presa potete fare anche questo lo prendete con una spada e con l'altro a per quanto riguarda le combo non vi aspettate che io faccio chissà quali combo della belletta incontrata semplicemente farò le combo necessarie alla mia sopravvivenza a parte che non mi ricordo tipo nessuna combo tranne quella che avete visto 600 volte quadrato triangolo ha moltissima combo e ha tipo salvato il culo in innumerevoli situazioni in tutti i groffons spero che tutto la mia memoria dei tasti di dark souls non si faccia largo durante staranno perché tipo sarebbe imbarazzante provare a correre con cerchio anche se in questo gioco non si corre ok il personaggio corre da solo che corre in automatico non c'è un tasto non si corre Oh, cazzo! Allo cazzo, non è? Ah, pizzo, cazzo! Oh, cazzo! Cazzo, cazzo! Oh, cazzo, cazzo! Yeeey, nooo! Penso al dolore lì in spito a trenare! Fine! Ti costerà la vita! Ehi! Per motivi ignuti! Ok, perfetto! Sono innocente! I dèi mi hanno abbandonato! Siamo tutti innocenti! Chiudi quella bocca! Non gli effetto! Siamo tutti, cazzo! Un appunto dallo schermo del centimane. L'impatto con gli dèi non è facile da sciogliere. Le furie hanno una visione del tutto personale, del bene e del male. Che sta a dire che le furie si divertono... riuscirò a salire la scala... si divertono a torturare... a confidere a... a fare cosettare il giro a tutti coloro che in prigione. Tutti coloro che rompono un patto con i dei compri... insomma è con Ares... Poi scoprirai ciò che attende gli sterri giù! Perché io sono creato a spunto? Si, non mi interessa delle spalle, lo so che io sono... Ehi! Ehi! Riuscirò a buttarli su tutti? No! Assolutamente! No! Aia! Non c'è un problema! Aia! Aia! Come potete vedere? Vediamo che sia... Occhio sul palco! Cioè o meglio... Aia! Aia! Ah! E' quello lì in fondo se ve lo state domandando... E' diventato tipo una città volante! Vediamo questi qui qui... Cosa si... E' settile... Un parasiti... Un mare... Che produce quella tizia la sua... Mi dicevo... Vedremo come te la caverai contro il centimane! Centimane... Eeeh... Che schifo... Appunto, come dicevo... Che piccoli e simpatici paraffitti... Funtare tranquillamente nel centimane... A renderlo tutto solo... Per quanto riguarda... Gli attacchi di questo... Tra virgolette... Miniboss... Cioè... Che posso scontare... Che posso scontare... Ho paura... Ehm... Ho paura... Ho fatto una nuova... Ehm... Ho visto una nuova... Ehm... Ehm... Cercherò di non far niente... Ok... Ehm... Er... Er... Certo... Certo... Ehm... 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 Esco... Er... Ehm... Anco l'avessi detto... E poi un attacco non fa... Non mi sto a dire che non fa balladare. Quando gli fa, tra virgolette, una mano... Come mi ha preso, ho rollato. Vedi, anche qua... Mi l'ho perso caldo. Non c'ero là sotto, Cristo! Ripeto, dopo essere stato stordito, diventa molto, 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 molto più aggressivo. Quindi dovete tenere gli occhi aperti per poi... E guardare alle mosse che fanno. Sì, attenzione a non andare troppo quando faccio aglio. Il più possibile, se riuscissi, fa la mano. Grazie. Quando fa una o una mano, probabilmente farà anche l'altra... E' l'unico, si entra... Velocemente... sicuramente scanzato verso sinistra per farlo l'altro ok perfetto bam eccolo qua sono tutta in me facile bella si cambia questo l'ho colpito una volta non penso quando il fuoco l'attacco mi raccomando a scendere qui sotto quest'attacco lo espone molto infatti rimane bloccato non potete notare quindi potete dargli colpi numerosi colpi senza molti problemi mi raccomando a questo a non rimanere sulla piattaforma centrale se ho scanzato a destra ho capito nel buco quando ho tutto a destra tutto a sinistra mi raccomando a cadermi tutto fa la strisciata orizzontale adesso mentre mentre quando attacco centralmente vi consiglio di saltare solamente sulla destra non di cadere nel buco perchè io almeno sto avendo difficoltà what sto avendo difficoltà a saltare fuori dal buco appunto ok sto di trovare una volta anche qui immagino adesso inizierà ad essere molto per pressione rispetto a prima qua dicevo di saltare nel buco eh di no satanino anche se comunque sia che mi è riuscito ad uscire subito ok ok nel buco perchè è andato per potersi però nel buco state attenti perchè ecco ad uscirne veloce perchè il meta è molto progressivo potenza ma oh ok ok segno credo le vie pieno di tutti i pezzi questo ha portato molti a dubbiarli non è che siano proprio il male primo mini boss ma riuscirai a sconfiggerci e lo capisce spero non si senta anche l'auto della mia tv un bel grande di più però ragazzi io sono senza audio cioè lo stendo al minimo giusto per se così meno sempre divertiti un sacco anche se ci faccio schifo bello siamo alle forne ok lo scrivo nel centimere l'appunto non la notte il figlio della regina è venuto al mondo stanotte sarà lui il prescelto della profezia come può un'anima così giovane essere giudicata a una sciagura dal suo stesso padre direi che possiamo terminare qui questo primo gameplay il prossimo gameplay che uscirà sul canale come vi ho detto non sarà God of War ma sarà Hotel Dusk Room 215 non posso fare altro che ringraziarmi per avermi seguito in questa prima parte del playthrough di God of War Ascension ci vediamo alla prossima ciao Seven Eight One Blime Three